Buongiorno a tutti, siamo interinali di Nocera Inferiore, della Nocera Contisepensi. Come sempre stiamo dal 31 ottobre, l'ultimo giorno del nostro contatto, davanti al Comune per protestare pacificamente per il nostro diritto del lavoro. Sono già 4-5 giorni che aspettiamo una risposta dal Comune, dal Sindaco, dall'Amministrazione Comunale, ma non abbiamo ricevuto ancora niente. La nostra manifestazione continuerà sempre di più, fino a quando non arriviamo a un punto un po' più, diciamo così, forte, concreto. In questo momento siamo disoccupati perché la scadenza era il 31 ottobre e quindi siamo disoccupati, una disoccupazione che ci fa male, perché tutti quanti, tutti gli interinali, abbiamo famiglie, case, abbiamo tutte le proprie spese di famiglia. Non abbiamo avuto nessuna risposta e quindi siamo molto demoralizzati. Noi siamo operatori ecologici. Il lavoro adesso, in questo momento, non sta svolgendo proprio nessuno. Anzi, stanno al di sotto dell'organico. Infatti, come ben potete vedere, in Nocera Inferiore c'è immondizia e hanno problemi di raccolta. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.